Qua era una pista da sparare giù a manetta e ce l'abbiamo messa tutta a fare la differenza anche la moto, il mio Canam Renegade 1000 è stato fantastico qua e poi qualche salto che se uno voleva poteva fare io l'ho chiusi perciò sono andato abbastanza bene, sono contento del risultato, mi sono tirato su di morale, mi sono allenato duramente e tutto positivo.